Sanità nel Cilento, mobilitazione dei sindaci. Il sindaco di Vallo della Lucania, Tony Aloia e di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, chiamano a raccolta i colleghi primi cittadini per scongiurare la chiusura di reparti negli ospedali del Cilento e Vallo di Diano. Per mercoledì mattina alle 10 hanno organizzato un primo incontro con i sindaci di Sapri, Roccadaspide e Polla, a seguire prevista una riunione con la direzione sanitaria e le organizzazioni sindacali dei vari presidi ospedalieri. Il tutto in preparazione di un più ampio incontro che vedrà la partecipazione di tutti i sindaci del Cilento e Diano organizzato per il 28 dicembre. La riqualificazione del sistema sanitario regionale e la rivisitazione del piano ospedaliero in atto, ribadiscono Aloia e Lamaida in una nota stampa, rischia di compromettere in maniera definitiva il già fragile sistema sanitario del nostro territorio, compromettendo i livelli essenziali di assistenza. A pagarne le spese saranno i nostri cittadini che, nonostante l'abnegazione e la professionalità di molti degli operatori sanitari, non avranno più la garanzia di un'assistenza sanitaria degna di questo nome. Qualunque pianificazione sanitaria deve assolutamente garantire a tutti i cittadini, ovunque vivano, l'accesso alle migliori prestazioni possibili, soprattutto nelle situazioni di emergenza e nei casi che richiedano alta specializzazione. In tale contesto determinante è la costruzione di adeguate reti ospedalieri e territoriali, in grado di affrontare innanzitutto le patologie urgenti e complesse tempo dipendenti. Questo al fine di poter garantire ad ogni cittadino l'accesso alle procedure più appropriate e al centro più idoneo al suo trattamento, a prescindere dalla zona di residenza. La difesa e la tutela della vita e della salute sono beni essenziali dell'essere umano e vanno difesi senza alcuna mediazione. I problemi che attanagliano la sanità occidentana sono tali che è richiesta un'assunzione di responsabilità da parte di tutti. Di fronte a questo stato di cose, concludono la Maida e Aloia, non si può più tacere.